Questa è sicuramente una misura importante, la più importante da quando sono appunto assessore alla cultura. Il progetto che facciamo insieme a Fondazione Cariflo e Union Camere è destinato alle imprese culturali che faranno dei progetti insieme appunto ai luoghi della cultura. Questo è un primo intervento di una certa importanza economica da quando è assessore all'inizio di un'estate che si pronuncia molto importante con grande fermento culturale per la Lombardia. Assolutamente sì, c'è stato un progetto pilota che era quello in Nuova Musee ma con una misura sicuramente inferiore a 2 milioni, questa volta abbiamo dato un segnale importante appunto con 6 milioni per, ripeto, un totale di 15 milioni ma ci sarà una seconda edizione per i restanti. Fondazione Cariflo lavora su due linee, uno la cultura per il territorio, cioè la cultura come qualcosa che può far crescere la produzione di valore per un intero territorio e l'altro la cultura per le persone, per i cittadini come qualcosa che può ridurre le differenze che esistono fra persone che hanno possibilità di accesso alla cultura differente. Allora per fare questo tipo di interventi è necessario mettere in rete i diversi soggetti, le imprese da un punto di vista della capacità di offrire contenuti importanti ma anche le istituzioni culturali che sono quelli che generano la domanda di innovazione. mettere insieme domanda e offerta richiede una capacità di costruzione di relazioni che è una delle funzioni di fondazione Cariflo. Abbiamo promosso il Nuova Musei quindi una prima sperimentazione e l'obiettivo è proprio quello di dire dove una sperimentazione ha successo non ci si deve fermare, bisogna fare in modo che i frutti di questa sperimentazione vengano distribuiti e diffusi sul territorio. In questo caso il Nuova Cultura allarga il campo di attività ma sempre con la stessa logica. Mettiamo insieme domande e offerta. C'è grande sinergia Presidente tra Fondazione Cariflo e Regione Lombardia? Assolutamente. Fondazione Cariflo può svolgere il proprio compito se e solo se lavora a stretto contatto con le istituzioni. Regione e con Lombardia è il nostro interlocutore fondamentale e con Regione Lombardia credo abbiamo un'attività di sviluppo di progetti comuni che è di grandissimo successo, per noi di grandissima soddisfazione.